Allora Lores, ti parlo a bassa voce perché Sofia sta già dormendo, spero che tu capisca qualcosa Cerco di fare una piccola introduzione su Wordpress, come ti ho già scritto sul messaggio Qui è l'indirizzo blog.firsteffects.net e qui entra e devi digitare vp-login.pap Arrivi a questa pagina qui, i tuoi dati di accesso te li ho già messi, fai il login Sta facendo il login, entriamo, questo è il back-end di Wordpress, non so se tu hai già mai lavorato con Wordpress Forse l'hai fatto qualche anno fa, è cambiato molto Wordpress, comunque è molto semplice Tu volevi sapere come caricare nuovi templates, semplice, vai su aspetto, temi Qui ci sono alcuni che ci sono già standard, questo te l'ho caricato io, questo è quello che volevi tu No, questo è quello che volevi tu, ti faccio solo vedere come funziona, vai su aggiungi nuovo Poi carica tema, tutto molto semplice, lo cerchi, scusa che è in tedesco ma non mi sono messo a cambiare la lingua del Mac per farti il video Dove l'ho scaricato qui, su download e sono uno di questi due qui Sono i templates che mi hai detto tu di vedere, li ho scaricati, li scarichi.zip, li apri e installa adesso In teoria non funziona perchè l'ho già caricato, infatti qui mi dice che lo stai installando comunque Strano Questo qui, questa informazione qui ti dice che questo template ha bisogno di questo plugin, questo plugin, questo plugin e questo plugin li puoi installare schiacciando semplicemente qui, ah vedi qui mi dice installazione a tema non riuscita perchè la cartella c'è già Infatti, te l'ho detto che l'ho già caricato prima Quando tu installi dei nuovi templates, può essere che hai questa informazione qui, che alcuni templates hanno bisogno di particolari plugin Semplice, schiacci qui, te li vai a installare, meglio meglio se te li installi uno a uno Molto semplice, molto intuitivo E' un po' lento Comunque tu hai pazienza, il plugin è installato Torniamo al tema Il tema che tu mi hai detto di installarti E' un po' un casino sinceramente Non è che Non lo so A me non piace molto Il tema che vuoi tu è questo No? Qui c'è tutti i temi che vuoi Cioè puoi averne più di uno Insomma a portata di mano Devi solo attivare Questo è il tema che vuoi Questo è il tema che vuoi E adesso se vuoi un po' personalizzare il tema Vai qui Personalizza Ehm Qui puoi cambiare il titolo La navigazione Ti ho creato un menu Ti faccio vedere anche come si creano i menu Sono tipo le voci qui Queste voci qui sono i menu Ti faccio vedere dopo come ti faccio caricare Qui puoi selezionare Come dove deve essere il tuo sito Deve essere un bloc Cioè che tu ogni giorno O un'altra settimana Metti un post Insomma racconti una storia Tipo classico bloc Oppure come una pagina Che è anche molto moderna Puoi selezionare Qual è la tua pagina Iniziale Insomma Questa O questa qui Sono tutte pagine che ho Così per test E qui se vuoi fare una pagina Più un blocco Puoi decidere Quale pagina deve essere Dove vanno i tuoi I tuoi post Insomma Le tue storielle Insomma Quello che vuoi Questa Questo temo poi Ehm Widgets Sidebar I widget I widget Sono questi Questi menu qui Sono Piccole funzioni Interattive Che puoi metterle Nella parte destra Ci sono molti carini Qui ci sono Anche Gallerie Come widget Ci sono Calendari Ci sono Tante cose Insomma Sono tante piccole Widgets Che puoi mettere Nella parte destra Della tua pagina Qui ci devi cercare A divertire Stesso principio Aggiungi widget Ehm Qui ce ne sono tanti O quelle che ci sono già Ehm Da attivare E se no Te le vai a ricercare Te le puoi installare Boh Qui è sul tema Il tema Non è finito Deve andare Qui Opzione tema Qui stiamo sempre parlando Dell'aspetto Cioè Della grafica Se così vuoi dire Opzione tema Il tema Che mi ha detto Di scaricarti È un po' un casino Non so come funziona Devo dargli un'occhiata Qui sono i banna I banna Quelli Qui puoi metterci I link Le foto E cose così Ho messo Ho lasciato Tutto standard Però Ehm Rimetto tutto standard Però Cioè Qui c'è Puoi metterti Un'immagine Che vuoi Insomma La foto che vuoi Come banna E' chiaro no? Ho lasciato tutto standard Ho salvato Però Se vado Se clicco qui Puoi visualizzare il sito Però Non vedo i banna Vedo Le pagine Che ho messo io Ma Ehm Il banna Che mi ha fatto Il template Non so Non mi dice niente Non so come funziona Con il banna Perché Hai visto che Ho impostato Tutti Tutti i link In teoria Ci dovrebbe essere qui Qui davanti L'immagine che scorre Con i vari link Però Quello non sono ancora riuscito A capire come funziona Ehm Quindi Ti direi Intanto Prendi Ehm Altri temi Ehm Ad esempio Io Ti ho messo questo Questo qui Questo c'ha anche dei Ehm Vedi? C'è anche questa cosa qui E qui puoi linkare Insomma A me A me Sinceramente mi piace molto di più E questa funzione Agli altri non lo so Quindi Una questione di Di Come si dice Di Di gusto insomma No? Come a te piace Ad esempio anche questo non è male Se vuoi Cercare altri Siamo sempre sul tema Ehm Temi Che ne so Ehm Cerca tra i temi installati Oppure Aggiungi nuovo Come ti ho fatto vedere prima Qui Ad esempio Puoi già selezionare Quelle che ti propone lui Più popolari Deve stare a aspettare che cerchi Guarda Cioè Sono Sono parecchi Ci sono tantissimi Insomma Anche questo è molto carino Insomma Questo sono gusti Ehm Anche questo Questo nero ad esempio Puoi fare prima un'anteprima Vedi 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 com'è Come sarebbe E Facciamo Installa Te lo installo Dopo se non ti va Te lo puoi anche cancellare Ti faccio solo vedere il principio O I templates Te li vai a cercare Sulla Sulla Tua pagina In internet Che le scarichi E le scarichi tramite zip Le carichi Oppure Te li vai a cercare Qui sulla finestra E devi Attivarlo Lo Abbiamo Attivato E Cosa abbiamo Una pagina bianca Bello Ah Un attimo solo che vedo cos'è Mi Loggo di nuovo Bene Questo succede quando Bene Questo succede quando Bene Questo succede quando Bene Ti ho installato L'ultima versione Che è la 3.9.1 Quando installi dei templates che non vanno bene Per il tuo sistema Per il tuo tipo di wordpress Ti consiglio Ti consiglio Di attualizzare wordpress Sempre Quando Quando entri nella tua Bacheca Vedi che c'è Sempre informazione Attento Loris C'è un nuovo update Lo cliccarlo Lo fa in automatico Ritornando al tema Cos'è successo Ho selezionato un tema Come hai visto prima Mi è venuta sulla pagina bianca Non potevo più andare avanti Cosa ho fatto? Ti faccio vedere cosa ho fatto Questo è il mio programma ftp Sono entrato nella tua cartella Che è questa qui intanto Questa è la tua cartella principale Sono entrato dentro bloc Sono andato Vp-content Theme E ho cancellato Il nome del tema che avevo installato Ti dico che succederà molte volte Quando installi o provi dei temi E avrai delle pagine bianche Che non riuscirai più ad andare avanti Devi andare via ftp Dentro qui Vp-content Theme E cancellare il nome dell'ultimo template che hai installato Così lo sai già Torniamo qui al punto aspetto Che siamo arrivati Temi Infatti questo era quello che era attivato prima Che non funzionava Ehm Ti cerco un altro tema Aggiungi un nuovo tema Così vedi come funziona Il più nuovo Ecco Il più nuovo in teoria Non dovresti avere funzione Ti prendo Pfff Che ne so Ce ne sono così tanto Questi sono tutti gratuiti eh Ma Questo mi piace Questo è bello Semplice Insomma te le puoi provare Te lo installa in automatico Come vedi non lo devi mettere via Cioè puoi anche installare I temi via ftp Però non trovo consiglio eh Fai qui Fai attiva Speriamo Che non mi Scassi Ok Adesso te l'ho Attivato Vediamo come è la tua pagina Ehm Vedi qui è Non lo devo ancora scrivere Però Carino Mi piace insomma No Qui è il tuo tema Così Qui in teoria dovresti mettere una foto Vediamo Come funziona questo tema Come vedi Tutti i temi sono diversi dall'altro Per sistemare Vai Su Personalizza E qui sono le cose che puoi mettere Al solito il titolo I colori Seleziona un colore Lo metto nero Che a me piace il nero E metti il sottosfondo nero Non si vede una sega Ehm Perché Ehm Tutto scritto in bianco Lo mettiamo in bianco Immagine di sfondo Mettiamo una bella immagine di sfondo Ti faccio vedere Dopo queste cose le cancelli eh Aspetta un attimo Ti metto questa Che è Una mia foto E te la posso mettere Ehm Dopo Navigazione Qui per mettere il menu Che te lo spiego adesso La foto te l'aveva stata messa Come sottosfondo Pagine iniziale Quella che ti ho spiegato già prima Qui sono ehm Widgets Che puoi mettere eh Sulla sitepa 1 Cioè Ehm Che sono qui ai piedi E C'è anche La Siteepa 2 Praticamente puoi mettere due Widgets A piedi pagina Bom Ehm Ehm Salva e pubblica Te lo pubblico Chiudi Visualizza il sito E vedi E così vedi quello che sai fare No Sto template mi fa Anche a me Vomitare Con wordpress purtroppo è sempre così Ehm L'ultima cosa che ti volevo dire riguardo al template Ti potete vedere come si Si fanno le pagine Ehm Devi sempre vedere personalizza E Scusa che il mio inglese fa cagare E qui puoi mettere Ehm Your photo Immagino che sia Ehm Il banner iniziale Insomma Facebook Google plus Quelle cose Le solite cose che puoi Sempre mettere Boh Adesso ti cerco un Un template Ti metto uno Tanto ti metto questo Dopo se non ti piace Te ne scegli un altro Questo a me mi piace C'è il banner Qui come vedi Ci sono Questo 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 template ad esempio Ha più opzioni Cioè Qui Responsive design Vuol dire Che si adatta A qualsiasi Ehm Sistema Ehm Cui viene Ehm Letta la pagina Ad esempio Se c'è un Handy Scusa Un Handy Sto parlando in tedesco Se Se un telefonino Ehm La pagina si Restringe A tal modo Che riesce a leggere Sul telefonino Se un tablet Si restringe Ehm Si restringe In modo che si vede Molto bene Nel tablet E così Se è un schermo gigante La pagina si ingrandisce In teoria Questo è Moderno Insomma Interessante Qui altre opzioni Il logo Che puoi mettere Ehm Un altro Ehm Un altro Un altro tipo di icone Per i social Social Dink Ehm Queste cose qui Insomma Poi qui Qui puoi mettere Ad esempio Le immagini Slider Ne puoi mettere Tre Perché questo è Ehm Gratuito Fino a tre Se vuoi mettere Più di Tre foto Devi comprarlo Devi prendere La pro La licenza pro Per avere Diecimila Bana All'inizio Insomma Sinceramente Su una Su una Su una pagina privata Sai tre Banna Che girano Basta e avanzano Metti tre foto Con tre link In teoria dovrebbe bastare Quindi Ti lascio intanto questo Se a te non ti piace Lo togli Ehm Salvi le opzioni Ehm Qui Puoi usare Quello che hai fatto No? Questi sono i Banna Che ti dicevo In teoria tu clicchi E vai ad un'altra pagina Questo è il senso del Banna Che tu clicchi Qui ti vai da un'altra parte Questo è quello dove Ho scaricato Dove hai tratto giù Questo Design E qui ci sono altre Immagini che puoi mandarti Tu ad esempio hai Tante pagine Metti Il banner O link su un'altra pagina Ad esempio Boh Ehm Torniamo sulla bacheca Ehm Qui Semplice Vuoi una nuova pagina Facciamo Aggiungi nuova pagina Ehm Titolo Ciao Loris Sono Poca fantasia E qui Scrivi il contenuto L'altra pagina Caro Loris Questa È Solo 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 Una Pagina Di Test Per Farti Capire Come Funzion No So Ehm Poi Qui lo Formatti Ehm Inserisci il tag Cos'è questo qui Poi Aggiungi media Ecco Ti Metto Una bella Foto Ti metto sempre questa foto Che è la mia Che la posso mettere Eccola qui La sta caricando Tac 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 Che questa Te la selezione Questa qui è tipo Una 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 Mediatek Insomma dovevano tutte le Le Ehm Le foto Eccola qui C'è la foto La puoi fare più piccola Più grande Ehm Se vai qui La puoi mettere a sinistra Centro Destra Dimensioni Grande Piccola Dimensione reale Media Ehm Che puoi vedere come deve essere la pagina Insomma Qui la tascalia L'aggiornamento Ecco Te la metto a sinistra Sinistra Che a me non mi piace di più a sinistra Tac E qui c'è la sinistra qui Te ho detto La clicchi La fai più piccola E adesso Puoi Continuare A Scrivere Quello Che Vuoi Qui dentro E adesso cosa facciamo Quando hai finito di scrivere la tua pagina Di mettere i tuoi video Le tue tabelle E tutto quello che vuoi Vai Vai a fare pubblica Hai pubblicato una nuova pagina In teoria La tua nuova pagina Andiamo a vedere qui La tua nuova pagina E qui Ciao Loris Questa è la tua nuova pagina Ci clicco la pagina Ciao Loris Caro Loris Questa è una sola Ho scritto Ho scritto anche sbagliato Ho scritto anche sbagliato A quest'ora qui di sera Ehm Boh Insomma hai capito il principio Se vuoi Qui Pagine Devi andare su Vai sulla bacheca Pagine Aggiungere una nuova pagina Se vuoi editare Le pagine Modifica Modificare Insomma È abbastanza intuitivo Articoli Questa è Questa funzione Solo quando vuoi Scrivere Tipo Block Ehm Aggiungi nuovo Sempre il principio Di prima Ehm Test No aspetta Se scrivo sempre test Dopo Ti confondi Questo È Un Block Senza accento Perché Non ho voglia In questa situazione Ehm Questo È Un Post Lo Pubblico Pubblica Tu dici Dove va a finire Questa non è una pagina Vediamo 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 dove Allora Qui non è Questa Qui Neanche non è Questa non è Non è Non è Allora Dove è andato Ehm Non c'è Io ho pubblicato Un Un articolo Se voglio così per dirti Non c'è Perché non ho definito Qual è la pagina dove puoi postare queste cose Se vai qui su sull'opzione del tema Insomma quella che ti ho già fatto vedere un milione di volte Qui Selezioni Una pagina statica Qual è la tua pagina di inizio? La tua pagina di inizio è Ciao Loris Qual è la tua pagina dove pubblichi i tuoi articoli? È Test 1 In teoria Dovrebbe funzionare Salva Chiudi Andiamo a vedere La tua pagina No Scusa Sbogliato Qui Adesso Ho detto Che la tua pagina principale È questa Ciao Loris E che test 1 In teoria È La pagina Dove tu Metti sti commenti Questi Come Si chiamano post Non so come si dice in italiano Cioè i tuoi articoli che metti giornalieri Vedi Questo è un block Poi c'è questo quello è sempre il standard Questi qui sono i block che In teoria i block li scrivi un po' più grandi Insomma sono Le cose che tu racconti o Se fai un nuovo tutorial Lo puoi scriverlo così Capisci? Puoi Farlo normalmente come una pagina internet Quindi metti qui il tuo contenuto è così Oppure Se vuoi fare tipo Wordpress Cioè Wordpress è block Tipo block Fai così E c'è tutti i tuoi articoli qui Qui in fondo insomma Qui c'è I mesi Quando tutti i mesi Se tu ogni Ogni mese Scrivi 10 articoli C'è il mese di maggio Giugno Luglio Agosto Insomma Per darti l'idea Boh Mi sembra di averti spiegato abbastanza Bene tutto quanto Qui Se ci sono i commenti Se la gente La gente ti vuole lasciare un commento Tu li puoi Moderare Li puoi accettare Li puoi rifiutare Qui sono vari plugin Vado un attimo sui plugin Plugin installati Ti faccio vedere perché i plugin sono molto interessanti Ad esempio Qui sempre il solito principio Aggiungi nuovo Cerca Come vedi qui ci sono già alcuni più cercati Plugin post Facebook Gallery Google Mettiamo Faccio io Video Gallery Vediamo cosa mi Tira fuori Qui ce ne hai tanti Ne hai milioni Non so Ti prendo questa che ha 5 stelle Puoi vedere prima i dettagli Se ti piace o non ti piace Qui puoi leggere le cose Installa adesso Puoi sempre sempre installare le cose E provarle Quando installi un plugin Un plugin è un'azione Una volta che lo installi lo devi anche attivare Sempre così Quando installi una cosa Di solito qui su wordpress la devi installare I plugin cosa sono? Sono delle funzioni Aggiuntive Che hai a volte anche qui sul menu Questo non mi chiedere cos'è Che l'ho installato prima Perché lo richiedeva un tema Non so cosa Cosa faccia Cosa Cosa serva Qui su impostazioni La maggior parte dei plugin Dopo vengono fuori sempre su impostazioni Atml 5 video settings Praticamente Qui Ti ho messo Una specie di video gallery Video player Grosse Facciamo 640 400 Cosa succede? Tu dici Ok adesso posso mettere video Ma dove li metto? Video gallery Qui puoi caricarti i tuoi video Adesso non ti metto Non sto qui a caricare niente Insomma qui è una galleria che puoi aggiungere Aggiungere insomma Qui puoi mettere tutti i tuoi video Le tue foto Se non vuoi fare con youtube Insomma puoi caricarti i video direttamente sul sito Poi Adesso quando vai a editare una pagina Dove sono pagine? Cosa succede? Speriamo che Speriamo che Modifica Dovresti avere una funzione qui dove potresti aggiungere una gallery Però qui non ce l'hai Ti ho scelto l'esempio sbagliato Quello che volevo dirti di solito quando aggiungi questi plugins Dopo dovresti avere un'icona qui in parte Che puoi aggiungere alla gallery Siccome non ho letto come funziona Non so come funzioni Ti ho fatto un esempio sbagliato Aspetta un attimo che voglio vedere Magari qui No non c'è Dunque Adesso non voglio farti confusione Ti ho aggiunto una video gallery In teoria Quando Tu hai video qui E hai foto Quello che hai Aspetta che guardo Un attimino come funziona Aggiungi Ok qui è nata Vabbè Ti ho preso Un esempio sbagliato Spero che tu capisci comunque Ci sono questi plugin In teoria Come ti dicevo Quando tu editi la pagina Quando editi la pagina E vuoi mettere la galleria Che hai appena Caricato Puoi mettere Qui O c'è Una Una piccola Un piccolo punzaltino Oppure Scrivendo Puoi aggiungere Un codice Mi sembra Una tag Tipo il codice bbc Però dovrei leggermi L'istruzione Di questa Di questa Di questa gallery Vediamo se riesco a leggere qualcosa Qui Ehm No Ti ho preso Il plugin Sbagliato Buon dai Loris Sai ancora domande Mi sembra che Ti ho già dato Tante Informazioni A riguardo E come vedi i plugin Li puoi attivare Installare Cancellare Queste tutte le cose che Ehm Cancella Buon qui Utenti Puoi fare anche In modo che si Registrano altri utenti Che eh Possono Digitare La tua pagina Insomma Come tipo Redazione Insomma Ci sono altre cose Che Non è che sarò Chissà che Non le uso quasi mai Buon Ehm Mi sembra di aver parlato Anche abbastanza Spero che tu abbia capito qualcosa Ehm Altrimenti Fammi sapere Insomma Ehm Come vedi E' abbastanza semplice Ecco Ti lascio questa qui Ehm Così per capire Poi Ti ho detto A cambiare La cosa più importante Sono i temi Che li trovi tutti qui Sotto aspetto Ehm Puoi aggiungere Nuove Popolari Più nuovo Filtro di funzionalità Puoi dire Voglio Un template Di colore nero Con Ad esempio Testata flessibile Ehm Supporto in lingua RTL Insomma Sono tutte le Le opzioni Ehm Fotoblock E vai a cercare Cerca 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 Faccio per dirti No? Boom Ehm Poi in evidenza Ho detto Ce ne sono milioni Qui ti dico solo Abbi pazienza Provali un po' tutti Prova Ehm Cosa più importante Ogni template Che installerai Ha delle opzioni diverse Non tutti sono uguali Capisci Come ti ho fatto vedere Alcuni c'hanno Questa opzione qui Theme option Ehm Alcuni non ce l'hanno Qualcuno Ehm C'ha solo personalizza Ehm Devi provarle un po' tutti Insomma ecco Allora la cosa più importante Ehm Pagina Qui puoi caricare già foto Ehm Tutto quello che vuoi Ehm Ehm Allora i temi Te li ho spiegati Come li installi Te li ho fatto vedere Ehm Le pagine Le crei qui Che sono I menu sopra In alto I plugin Ehm Avrei voluto spiegarle un po' meglio Magari un'altra volta Ehm Sono Sono Gallery Funzioni Facebook Oda Per tradurre Tradurre la pagina E cose del genere Insomma Boh Ehm Sembra di essere Stato esaudiente Se hai ancora domande Fammi sapere Scusa se sono Un po' Ehm Sconcentrato Stora qui Non è facile Qui puoi Sloggarti Ehm Qui Come ti dicevo La pagina Per logarti Questo è Il Blog Intanto Ehm Per logarti Devi solo digitare Ehm Ehm Ti ho detto Vp Admin E qui Arrivi sempre su Sulla pagina dove ti loghi Buon Loris Buonasera Ti auguro buona serata Buona domenica Sai domande Fale pure Ci sentiamo Adesso metto In pausa Ti pubblico Ehm Ti pubblico Il Cosa qui Su Youtube E te lo metto In maniera privata Se mi ricordo come si fa Ciao Come si spegne Ecco Per Grazie.